Il progetto mi va che ad uno sposo si vivace e geloso. Ma che male c'è mangiando i miei vestiti con quelli di Susanna e suoi carini al favore della notte a cielo a qual mi è stato fatale io sono ridotta da un consul che trovi e dopo avermi con un misto inudito di infedeltà di gelosia di stimmi evadata e di offesa e di tradita o una che me come per me a di i Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.